bello a tutti ragazzi siamo sempre su advanced warfare e oggi giochiamo sempre online e facciamo un deathmatch a squadre iniziamo a trovare una partita deathmatch a squadre vediamo un po' se sto usando le nuove cuffie della triton l'ex 180 che le ho comprate ieri sono veramente comode sono ottime che per chattare vabbè iniziamo ragazzi mettiamo il mio ball tutti gli operativi non sentinel sono da considerarsi utili eliminate siamo passati in vantaggio no ragazzi già già fatto siamo vero stiamo agendo 4-1 la mia squadra deve già metterla e non dall'aggia un po' allora qui amici di un po' e così da qui ragazzi no da qui non c'è non arriva nessuno quindi andiamo allora 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 ma qui dovrebbe essere davanti a bersai da qui ci dovrebbe essere vabbè ecco no 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 Beh, sbomba, qua ci sono il mio amico, ma comunque abbiamo quella niente. Più, quindi adesso c'è proprio stronzo. Stronzo! Ecco, esci fuori. Stronzo! Stronzo! Affanfone, che cazzo non mi hai fatto a prendere. Stronzo! Bellissimo, però ci siamo. Che cazzo di stronzi. UAV alleato in sorvolo. Bersaglio allo scoperto! Oh, da qui, sicuramente. Oh, che tiro. Ah, sono ucciso il mio amico. Vabbè, siamo. Ah, un altro momento. Nooo, cazzo! Tre uccisioni e tre morti, finora. Hai due assi. Vabbè, vediamo che finora siamo andando bene. Ne mancano ancora sette minuti e venti. Per la fine da parte. Diciamo che finora è un buon punteggio, però. Buonissimo, però. Sì. Ehm. Mi piace. Oh. Ecco lì. Sì, però non siete al cazzo che non esiste. Brutti, bastardi, caini. Maledetti che non mori. Ti voglio un giorno. Nooo. Da sopra le tavole! Andiamolo! Eccoci. Eccoci, maledetto stronzo figlio di una mignotta. Una di quelle mignotte buone. Porca puttana dove cazzo sei, stronzo dove cazzo? Cambio caricatore. Puttana di merda, puttana. Puttana, puttana, puttana. Ehi tu puttana dove sei? Puttana, puttana, puttana. Il mio puttana è qui. Io lo farò. Io lo farò. No, ce l'ho fatto. Ce l'ho fatto. Ce l'ho fatto. Nooo. Ma che cazzo. Ma già volevo fare. Corpo al corpo, già me l'ho fatto. Ma porta puttana di quelle mignotte. Tre, tre uccisioni, tre, tre. Vai! Alla grande, raga. Mamma mia, qui sotto questa caverna. Andiamo noi a trovare un stronzo. Uno di quei stronzi da qui ci dovrebbe passare. Un stronzo. Ehi, piccolo. Dove sei? Dove sei? Ti costruisco. Vieni fuori. Ti fuori. Ti fuori per un attimo. Ti fuori per un attimo. Ti fuori per un attimo. UAV nemico online. Oh no. Soltana di merda. UAV alleato in sorvolo. Cazzo che non c'è altro. Cazzo che non c'è altro. Dove sei? Dove sei andato? Vingiamo la battaglia. Ah, benissimo. Benissimo, ragazzi. Cazzo. Soltente. Abbattuto. Oh, cazzo. Cazzo che non c'è altro. Cazzo che non c'è altro. Prendi, non c'è altro. Cazzo. Cazzo. Soltanone con cazzo che non c'è altro. Prendi il tempo che mi ha fatto Prendi il tempo che mi ha fatto Buonissimo, buonissimo Ma proprio Prendi il tempo che mi ha fatto Prendi il tempo che mi ha fatto No, no! Cazzo, no! No, no! No, no! Avevo vinto la munizione Perché Avvenire Sei, sei... vai ecco la stanza andiamo tra l'altro mamma mia vabbè un'assista ma perché finiscono i miei oh che peccato vabbè comunque abbiamo vinto 75-54 7 uccisioni e 5 uccisioni sicuramente migliore delle altre volte il nostro video finisce qui e ci vediamo